In Gran Bretagna c'è chi propone addirittura il carcere, ma anche in Italia si chiede maggiore severità per i distratti alla guida del nuovo millennio, la cui poca lucidità non deriva più solo da alcol ma da conversazione al telefono, immancabili selfie e, se parliamo di luoghi artistici come Roma, pure scatti alle bellezze della città. Impossibile restare fuori dal mondo anche per un periodo limitato, impossibile non catturare ogni momento di vita e condividerlo. Certo è che se in Italia si concretizzasse la provocazione di Suset Davenport, il capo della polizia del Gloucester, che ha lanciato la dura proposta, a finire in galera colti sul fatto sarebbero in molti più del 12% secondo l'Istat, i cui dati mostrano che la mancanza di concentrazione è la prima causa di incidenti e l'uso scorretto del cellulare è in testa alla classifica di distrazioni, spesso fonte di tragedie. Il Ministero dei Trasporti britannico ha accolto con freddezza la proposta della Davenport, giudicata eccessiva. Ma è anche vero che chi ha vissuto sulla propria pelle un lutto dovuto alla strada, come la segretaria dell'Associazione Vittime della Strada, Patrizia Quaresima, la pensa diversamente. Sarei d'accordissimo. Tra l'altro a Roma si circolerebbe molto più bene perché la maggior parte delle persone usano il telefono e la trovo una cosa veramente assurda perché noi mettiamo a rischio la nostra e la vita altrui. Uno dei casi più gravi è stato quello di Matilda, la bambina Umbra di 8 anni che il 5 agosto 2010 perse la vita a causa di un cellulare e di un guidatore distratto da una conversazione telefonica, divenuta una bandiera per l'associazione. Una mattina attraversava la strada sulle strisce pedonali e il nonno era con lei, la bambina portava a mano una bicicletta e è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali e la persona che l'ha investita era al telefono. La domanda, come sempre, sorge spontanea. È così complicato scambiare due parole al telefono da fermi? Ma che possibilità hanno i vigili urbani di contrastare le distrazioni al volante? Molto poche, secondo la Quaresima. I vigili non possono fare niente se non gli arriva un ordine dall'alto. Io stessa, quando ho perso mio figlio, ho detto che sono le istituzioni che dovrebbero dare le indicazioni giuste per la prevenzione e per tutto quello che segue l'incidente. Insomma, per le associazioni di categoria le semplici multe non bastano.